Mal tempo. Pesantissimi i disagi a Premana nella zona più a nord della Valsassina. Alle prime dei luci dell'alba una colata di sassi, fango e detriti ha invaso il centro, travolgendo auto, allagando abitazioni e garage che si affacciano sulla strada. Interrotti gli esami di terza media, gli studenti sono stati fatti uscire dall'edificio scolastico.